Salve ragazzi, nuova notizia riguardante la patch 1.1.4 di Diavolo 4 Praticamente hanno deciso di boostare la benedizione dell'urna dell'aggressione che era del percorso stagionale dall'8 al 20%, quindi sostanzialmente un 12% di esperienze in più Questo hanno detto che l'hanno fatto, lo vogliono fare per aiutare i giocatori a raggiungere il livello 100 prima dell'arrivo della nuova stagione il 17 ottobre, quindi tra esattamente un mese e una settimana Più ci sono state altre correzioni, più che altro problemi delle emissioni, alcuni eventi addirittura dicono anche risolti vari problemi grafici di prestazioni e stabilità Diciamo che, non ho ancora ben capito, sicuramente nella prossima stagione ci porteremo dietro più cose rispetto a questa stagione, quindi non solo i santuari di Lilith ma anche altre cose ma non ho capito, non credo che ci porteremo dietro anche il livello d'eccellenza anche se avevo letto qualcosa di simile, non credo perché se no non vedo cosa fare nella stagione vedremo poi con le note nella, diciamo, prima dell'arrivo della stagione hanno detto che comunque le comunicheranno un bel po' prima questa patch qui arriverà il 12 settembre, quindi esattamente martedì quindi praticamente è arrivata non porta ovviamente nessun tipo di modifica speriamo, io spero vivamente che la Blizzard riesca a fare delle modifiche per la prossima stagione anche se non credo che saranno molte comunque, intanto, per chi ancora non è arrivato al livello 100 godetevi questo boost di esperienza e cercate di portare il personaggio a 100 prima della fine della stagione grazie grazie grazie